La Sala Giunta del Comune di Salerno ha ospitato la conferenza stampa promossa dal consigliere Giampaolo Lambiase, esponente della lista di sinistra Salerno di Tutti. Un'occasione per tracciare un bilancio di questi anni di gestione e per rivendicare l'impegno nell'aver contrastato la politica deluchiana a Palazzo di Città. Un'opposizione credo concreta, costruttiva, con proposte anche di delibere che la Giunta in alcuni casi addirittura ha recepito cambiando le vecchie posizioni. Lambiase ha anche annunciato il suo impegno alle prossime amministrative d'autunno, dove sarà nuovamente candidato sindaco della compagine di sinistra. Un'opposizione che adesso si sta preparando alla prossima scadenza elettorale, con una lista quasi pronta. Noi pensiamo che bisogna cambiare pagina. Nello stesso tempo, fino alla fine, siamo aperti ad un confronto con forze di sinistra e di centro affinché si crei anche un'alleanza più ampia. Per noi è essenziale un confronto sui temi, sui problemi, perché in moltissimi casi, anche con forze civiche, con politici di varia estrazione, non ci siamo trovati sulle cose da fare, sulle cose concrete da fare e sulle iniziative e gli obiettivi da portare avanti.